Oggi, sabato, 26 agosto 2023. Guardate dove sono. In questo momento sembra che il mio io sia nascosto proprio qui in una bottola segreta, in queste case del passato, dove fuori c'è un vento fortissimo, una bufera d'acqua, d'aria, a soprattutto Milano, nelle città, e io sono qui, tra una casa abbandonata e una casa abitabile, e guardo questo bel cielo della Valtellina, chiamerei Bassa Valtellina, ma guardate dove mi approprie oggi di questa visione ottica, l'ace sulla strada provinciale che porta a Dazio, il paese nascosto dalla montagna Colmer, ma guardate in questo momento io dove sono, tra un viottolo stretto e l'altro mi cammino me stesso nel passato, in una vita dove qui hanno vissuto delle persone, ebbene, ma osservate bene dove sono, prendo il mio ombrello e mi porto verso alla chiesina di San Bello, sì, sono in questa località di San Bello, guardate in alto il passato, l'epoca che fu, che c'era stata una vita qui, e mi cammino senza bagnarmi, so che fuori il mondo è pieno di tempesta, ma io mi nascondo qua, in questo senso dove posso rimergere me stesso e vivere in questa località chiamata San Bello, sopra Morbegno, esattamente sopra il ponte Ganda, mi incammino, mi incammino in questo luogo, in provincia di Sondrio, dove ero stato bensì tre o quattro anni fa, ma oggi tutto mi sembra di assistere a me stesso, alla mio girovagare dove mi sono fermato in un tempo di eternità, dove qual tempo non è passato, non è passato, Aldo sono qua, me stesso, mi incammino pian pianino per scendere verso il ponte Ganda, passo dalla chiesina di San Bello, cerco di camminare tra un viotto e l'altro, di non inciampare perché qui è abbastanza pericoloso dove sono, guardate bene dove sono, sotto questo tunnel si può dire di case ristrutturate, io sono qua, sono lieto oggi di presentare la mia avventura, osservate, Selva, Piana e Cermeledo, sono stato in tutti e due paesi a vedere queste località, che dall'alto si nomina la parte visiva ottica della Valtellina, in memoria della famiglia di Giovanni e Marianne, che in questi luoghi negli anni 1943-1945, con proprio gravissimo rischio, offrì asilo clandestino agli ebrei tedeschi e rifugiarono in questa chiesina denominata San Bello. Io dedico oggi la mia espressione letteraria e si può dire artistica verso questo luogo dove ho scoperto questa chiesina che l'avevo già riscoperta tre anni fa, ma in più vedo il cielo nuvoloso e incerto, come se al tempo che fu mi nascondai, mi nascondai, nascondersi in questa chiesa dove per paura della guerra io fui partecipe di un'epoca passata dove la chiesina di San Bello oggi rievoca la sensazione emotiva di essere una base così importante per dire qui c'è stata una guerra, qui c'è stato un passato, ma ora ora Aldo guarda dall'alto, sottostante vede la valtellina media. No direi, apparteniamo alla valtellina bassa, ecco sottostante Murbegno, la bella cittadina che mi sto incamminando proprio in questo momento a piedi, scendendo, come ho detto prima, dalla chiesina di San Bello. Scendo, scendo, vado fino al Ponte Ganda. Saluto tutti gli ascoltatori di YouTube perché oggi la mia memoria vive così tanta presente nel presente attuale che io dico sono un girovago, un viandante della valtellina, un'esplorazione continua di state d'anime, di emozioni, di storie del passato dove io rivivo attualmente il presente. Aldo Maspero, saluti dall'alto della cittadina di Morbegno.